Attimi di paura questa mattina all'altezza del casello auto stradale di Bari, direzione nord, dove un tir è andato a fuoco. La zona è stata subito fatta evacuare in pochi secondi. Diverse auto hanno lasciato di corso il posto e non sono mancati i momenti di tensione. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme, mentre la dinamica dell'accaduto è ancora tutta da chiarire.